Musica La cucina di Alù è una cucina naturale dalla mattina alla sera, quindi in tutti i momenti della giornata che sia una colazione, una merenda, un pranzo o un asporto per la cena si cerca di offrire un prodotto diverso, un prodotto che di solito non si trova né nella grande distribuzione né dai piccoli artigiani perché intanto si utilizzano per scelta solo prodotti siciliani e da agricoltura biologica, bioetica o biodinamica quasi tutti da produttori piccoli che conosciamo direttamente e con cui abbiamo creato anche una catena solidale e quindi acquistiamo gli uni gli altri reciprocamente ricerchiamo sempre quei prodotti, possibilmente sempre coltivati in Sicilia o comunque in Italia, anche il riso è di una risa italiana non usiamo riso estero e poi anche il metodo di cottura è molto importante non basta parlare del cibo biologico o della verdura se non si cucina pure in un certo modo intanto la cottura che va per la maggiore da noi è la cottura al vapore e la cottura al forno che sono due tra le cotture che mantengono di più inalterato quasi per quello che è possibile tutto quello che sono le caratteristiche di quell'alimento dopodiché facciamo anche qualcosa di più sfizioso soprattutto nel fine settimana dei prodotti tipici siciliani come le arancine, come le panelle però anche quelli a modo nostro in un'altra scelta non abbiamo congelatore non abbiamo friggitrice e non abbiamo microfiche ho sempre pensato che sarebbe stato bello avere un negozio non dove comprare il solito l'arrosto e la solita pizza ma bensì avere la possibilità di acquistare cose sane fatte proprio come li faceva prima la mamma o la nonna che appunto si passava dalla mamma e ti dava il sugo pronto ti dava il minestrone pronto e quindi è arrivato la cucina di Alunone sono sempre al fondo la pasta sono mezzemanite di questa di Stello Pio una pasta siciliana integrale con crema di zucchine la cucina di Alunone è nata nel 2014 come progetto, idea abbiamo iniziato appunto questa avventura ma l'abbiamo aperto al pubblico il 20 aprile del 2015 in questi tre anni e mezzo sono passata da uno scetticismo generale un po' un isolamento a adesso, ad oggi che ho invece una parola di clientela sicuramente affezionata cioè non è un cliente occasionale che viene una volta a settimana ma è un cliente che ci segue quotidianamente per il pane, per la merenda dei bambini per il pranzo, per l'asporto e la cena magari non tutte queste cose contemporaneamente però quotidianamente si fa vedere insomma per i suoi bisogni scegliono per quanto riguarda i fornitori il mio rapporto è bellissimo perché sono tutte in realtà nuove sono tutti ragazzi molto giovani che come me hanno abbracciato questa missione ma la chiamerei perché sicuramente non è facile lavorare in questo settore a Palermo comunque vanno e andranno ahimè secondo me avanti sempre per la maggiore quei posti dove si paga poco si può mangiare tanto anche a volte curandoci solo del gusto buono ma non in realtà di cosa c'è in quell'alimento ma come è fatto quell'alimento non è ancora chiaro che meno spendiamo più ci dobbiamo chiedere da dove proviene quell'alimento e da cosa è fatto perché quello che noi compriamo qui in Sicilia è molto più caro di un prodotto che viene dall'estero altro? fare conoscere alla cittadinanza tante realtà che sono per lo più sconosciute il sabato soprattutto nel periodo invernale prima delle feste natalizie organizziamo dei piccoli mercatini e si fa il mercato del contadino quando invito i ragazzi produttori di ortaggi e verdure si fa con le uova con l'azienda di uova che noi utilizziamo che è casa paterna di Contrada Paterna dei Terrasini i ragazzi dell'orto biologico sono mamma abbiamo insomma tante realtà sempre di persone che conosciamo fisicamente non è un nome non è un'industria ma sono delle persone che lavorano il sabato vengono qui e facciamo questi piccoli eventi loro possono fare una piccola vendita sono ospiti miei quel giorno e insieme raccontiamo un po' alle persone che sconoscono questa realtà cosa cambia rispetto a comprare dalla mia distribuzione un'Italia che cambia deve essere un'Italia assolutamente che deve prendere consapevolezza consapevolezza di tante cose dobbiamo partire sicuramente dalla salute e quindi dal cibo dal cibo buono dal cibo sano ma dovrebbe passare anche per tante cose per me un concetto di etica dovrebbe essere a 360 gradi quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi che cambia